una parola di incoraggiamento in questi tempi difficili siate forti resistete anzi resistiamo dinanzi all'assalto del male e all'avanzamento dell'oppressione con la fiducia riposta in Gesù Cristo il nostro salvatore sulle rovine di questo mondo morente fatto di menzogne malvagità e ingiustizie restiamo saldi nella fede in colui che il sole della giustizia Gesù Cristo il quale ha promesso alla sua chiesa che non l'avrebbe abbandonata facendoci presente nel mondo avrete tribolazione ma fatevi animo io ho vinto il mondo rinvigorite da queste soavi parole del Redentore vegliamo e restiamo in attesa della beata speranza il ritorno di Cristo nella gloria del Padre per instaurare il suo regno che non avrà mai fine chi è di Cristo deve restare fiducioso e riposare nella sua pace sulla sua parola nelle sue promesse l'ultima parola spetta sempre a Dio